Ciao, sono Alessandro Preti, il nuovo schiacciatore della ceramica globo Civita Castellana. Volevo fare un saluto a tutti i tifosi rosso-blu e a tutti gli appassionati di pallavolo. Ci vediamo in campo a Civita Castellana per una nuova stagione. Non vediamo l'ora di cominciare, di conoscere i compagni e il coach e di regalare più nuove emozioni al palazzetto. Ci vediamo, ciao!